Un saluto e ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Infiltrazioni fresche e umide nella giornata di domenica continueranno ad apportare della variabilità sul nostro territorio, specie tra nord-est e al sud Italia. Andiamo uno sguardo nel dettaglio alla grafica della nuvolosità, come vedete sarà presente maggiormente sul Triveneto, sul medio versante adriatico e al sud e questi annuvolamenti daranno luogo a delle precipitazioni, specie sui rilievi del nord-est e sulle regioni meridionali. In definitiva ci attene una giornata di domenica soleggiata al centro nord, grazie a un quindi generale miglioramento del tempo, segnalo solo qualche rovescio residuo sui rilievi di nord-est e qualche annuvolamento che transiterà sul medio versante adriatico ma in un contesto qui asciutto, temperature massime in aumento, valori in calo invece al sud dove avremo della variabilità con nubi irregolari e precipitazioni sparse. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.